Giovanni Verga nasce nel 1840 a Catania da una famiglia di aspirazione antiporbonica e liberale. Nel 58 si iscrive alla facoltà di legge di Catania ma decide poi di abbandonarla per dedicarsi alla letteratura. Si unirà nel 1860 ai Garibaldini in seguito allo sbarco in Sicilia. Nel 1869 si trasferisce a Firenze che allora era capitale d'Italia e frequenterà gli intellettuali della città. Nel 72 si trasferirà a Milano dove conoscerà Capuana con il quale approfondirà gli studi sul naturalismo francese. È del 1874 la novella Nedda con la quale inizia l'approfondimento delle tematiche veriste. Nel 1881 pubblicherà I Malavoglia e nel 1884 durante un viaggio a Parigi conoscerà Emile Zola. Nel 1890 deciderà di trasferirsi definitivamente a Catania dove smetterà sostanzialmente di scrivere e si allontanerà sempre di più dalla letteratura. Nel 1920 verrà nominato senatore a vita. Morirà a Catania nel 1922. Grazie mille!